salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video targato jfomblog.it in cui andremo a vedere insieme come attivare alcune delle funzioni introdotte da ios 8 sul nostro iphone 4 con ios 7.1.1 grazie al jailbreak vi ricordo che se ancora non lo avete effettuato di andare sul nostro sito www.jfomblog.it e nella sezione jailbreak potrete trovare tutte le guide necessarie per effettuarlo la prima funzione introdotta da ios 8 che andremo ad attivare sul nostro iphone 4 sono le notifiche interattive che ci permettono di rispondere ad un messaggio o ad un email direttamente appunto dalla notifica questa funzione è attivabile su iphone 4 grazie al tweak occhi che potrete scaricare gratuitamente dalla repo che vi lascerò in descrizione ma andiamo a vedere come funziona adesso ad inviare un messaggio invia vedete che apparsa la notifica comparirà un pulsante con lo scritto reply che se andremo a premere comparirà questa schermata che ci permetterà di rispondere velocemente al messaggio senza accedere all'app messaggi potremo rispondere anche dalla lock screen c'è uno swipe verso destra oppure all'interno di qualsiasi altra applicazione la seconda funzione introdotta da ios 8 che andremo ad attivare sull'iphone 4 come avrete già notato è la tastiera quick type la tastiera predittiva questa funzione è attivabile grazie al tweak predictive keyboard scaricabile dalla repo big boss al costo di 2 dollare 39 all'incirca 1 euro e 80 più tre giorni di prova dopo l'installazione la tastiera è completamente configurabile dall'app impostazioni potrete scegliere qui quale delle due licenze acquistare se la licenza completa o la licenza di tre giorni oppure quale lingue scaricare tra quelle presenti che sono molte e come avete visto il risultato è praticamente identico a quello di ios 8 terza funzione andremo ad attivare sul nostro iphone sono i contatti rapidi che possiamo trovare nel nuovo ios nel multitasking tale funzione è attivabile con il tweak quick contact che potrete scaricare gratuitamente dalla repo che vi lascerò in descrizione quick contact è richiamabile in is 7.1.1 facendo uno swipe verso il basso nella home screen per aggiungere un contatto basterà premere su una icona con il più rosso e sceglierlo appunto tra quelli presenti nella vostra rubrica una volta aggiunto il contatto se andremo a premere di nuovo sull'icona ci comparirà questo pop up dove potremo scegliere se con chiamare il contatto mandare un sms oppure una mail per chiamare la ricerca spotlight basterà fare uno swipe verso destra e avremo di nuovo la ricerca attivata quarta funzione che andremo ad attivare è l'eliminazione della scheda perse dal centro notifiche per farlo basterà installare un tweak chiamato identification center all only scaricabile gratuitamente dalla repo big boss una volta fatto è dall'app impostazioni e potremo scegliere se visualizzare la scheda oggi la scheda tutte oppure la scheda perse attivando la scheda oggi e tutte avremo questo risultato molto simile a quello di iOS 8 ultima funzione che andremo a vedere oggi è la medical id che è una funzione presente nell'app health questa funzione è attivabile grazie al tweak che si chiama in case off scaricabile gratuitamente dal link che vi lascerò in descrizione è installabile manualmente tramite i file una volta scaricato questo tweak all'interno dell'app impostazioni andremo a configurare tutte le informazioni che ci verranno richieste una volta configurata nella schermata di sblocco vi dovrebbe comparire sotto il numero 7 oppure sotto il numero 9 un pulsante rosso dico dovrebbe perché ancora il tweak non è completamente compatibile con iOS 7.1.1 e quindi a volte compare e a volte no bene ragazzi per questo video è tutto e vi ricordo qualora il video vi sia piaciuto di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale un saluto da Matteo Vesiti per enjoyfunblog.it grazie a tutti grazie a tutti